Ciao a tutti ragazzi oggi voglio un attimo dirvi che non la faccio ad aprile la gara ma la faccio questa domenica appunto il 20 febbraio io farò la gara alle 2 mia sorella gioia invece alle 9 quindi saranno via praticamente una giornata con i miei compagni e sarà bellissimo veramente spero che mi diverto e spero anche che voi mi divertiate quel giorno e sapete una cosa potrei allora sicuramente non posso fare video dentro la palestra però posso dirvi ciò che è successo quando torno a casa tramite youtube lasciate un bellissimo commento un bellissimo like e iscrivetevi al canale ciao ciao e baci baci ciao 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 ciao